Io sono un'integralista purtroppo, credo che oggi abbiate sicuramente una quantità di stimoli fortissima, interessantissima, che proviene da molte parti diverse e che questa molteplicità di stimoli sia un rischio più che per chiarirsi le idee e per complicarsi la vita e invece non chiarirsele per niente. Quindi credo che l'importante sia capire veramente quello che uno vuole fare e se sente che quella è la sua strada, lavorare e studiare per seguire quella strada perché io non credo all'improvvisazione dentro alcun mestiere non credo alla possibilità di svegliarmi domani mattina e pensare che posso fare il muratore se non so impastare la malta, insomma non si improvvisa niente e siccome questo mestiere è un mestiere di fatica, di studio, di artigianato come diceva il mio maestro, io credo nello studio, così come credo nel talento credo che lo studio possa aggiungere qualche cosa che è tecnica, che è una struttura però fondamentalmente credo che una parte di questo mestiere sia una sorta di vocazione un po' come fare il prete o fare il medico quindi bisogna ascoltarsi molto bene e se uno sente quella chiamata maledetta per fare questo mestieraccio, darsi da fare e studiare